L'effetto che volevamo ottenere e quindi la tarantella della Ia-Ia-Sassi, preceduta da alcuni ultrasuoni prodotti da un contrapasso, questa è una particolarità del strumento, era un po' di un grido della guaglia, e in questa atmosfera un po' colica, sempre nelle altre migliori effetti sono le vibrazioni che non contrapassano, e basta, adesso non potrà farlo sentire. Grazie a tutti. 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 Grazie.